ciao amici e bentornati in un nuovo video di cesca fashion blog oggi a grande richiesta vi svelerò tutti i trucchetti per superare la prova costume last minute prima di cominciare vi chiedo di lasciare un mi piace iscrivervi e seguirmi su instagram dove vi delizio con post live e storie ogni santo giorno vi ricordo inoltre che sono ancora in vendita le maglie estive mi raccomando affrettatevi a comprarle prima che finisca la campagna bene iniziamo con il video il primo consiglio che vi voglio dare è quello di comprare degli outfit davvero a fashion blog e farsi tanti selfie da postare su instagram fare la finta salutare sui social infatti vi aiuterà sicuramente a perdere quei chiletti in più che avete sui fianchi o sulle cosce e se non vi aiuterà beh c'è sempre photoshop ora che avete il vostro outfit da fashion blogger siete pronte per cominciare la vera e propria workout routine andare a correre è un ottimo modo per iniziare l'allenamento per riscaldare i muscoli e migliorare le vostre prestazioni atletiche dopo la vostra corsetta potete procedere con qualche serie di addominali 4 o 5 serie da 150 andranno bene per iniziare e continuate con altre serie di quell'esercizio terrificante di cui non ricordo il nome per tonificare i glutei ed eliminare la ciccetta sulle gambe andate avanti così finché non siete esausti e vedrete che i risultati si noteranno nel giro di pochissimi giorni oltre all'attività sportiva anche la dieta è importantissima riempite la vostra pancia di frutta e verdura mi raccomando niente grassi niente dolci e niente pasta solo riso integrale e bevande di soia aspetta un attimo quella è pasta panna pancetta piselli metti la giù metti la giù metti giù la pasta vai a farti il riso in bianco subito dove è rimasta per eliminare la cellulite mangiate solo cose senza sa una bella insalata scondita è perfetta sia come pranzo che come spuntino di metà mattina che come cena che come colazione mi raccomando niente cose sala e scusa che cosa hai messo in bocca fammi vedere fammi fammi vedere cos'è una nocciolina puta subito quella nocciolina brava tesoro non dimenticate di bere tanta tanta acqua litri e litri di acqua ovunque voi siate qualsiasi cosa stiate facendo dovete bere acqua avete seguito tutti i miei consigli molto bene ora siete pronte per lo step finale infilatevi il vostro costume preferito un top colorato e dei bei pantaloncini spegnete il telefono dimenticate i fisici scolpiti che vedete su instagram e uscite a far vedere a tutti quanto siete belle oggi che abbiate il sedere piatto o i rotolini di ciccia sui fianchi le vere fashion blogger siete voi magnate questa pasta e e andate al mare ciao